C'era una volta una casettina al profumo di pan di zenzero e un bosco innevato. Pronti a preparare insieme questa famola? Iniziamo dalle nostre basi. Lavoriamo le uova con lo zucchero, un pizzico di sale, pasta di vaniglia, spezie, pepe. Uniamo a fino l'olio, il lievito e infine la farina, alternandola con il latte. Quando il composto è bene omogeneo lo trasferiamo nei due stampi da plum cake imburrati. Sbattiamo sul piano e cuociamo a 170 gradi per circa 45 minuti. Intanto prepariamo un velocissimo frosting mescolando il formaggio con lo zucchero a velo. Ed ecco le nostre basi pronte. Livelliamo togliendo leggermente le parti in eccesso, che diventeranno subito una merendina. Tagliamo in tre parti e ciascuna a metà, farciamo con il frosting e ricopriamo per un effetto nude cake. Ciuffettini sulla parte superiore con l'aiuto ad una sac a poche ed ora è il momento di pavesini, perfetti per diventare il tetto della nostra casetta. Fissiamo con ancora qualche ciuffetto e guardate quanto è carino! Una casetta speciale, piccoli abeti e una leggera nevicata di zucchero a velo. La magia del Natale in un dolce semplice ma irresistibile. Una piccola fetta per gli ospiti o una mini porzione tutta per voi? Buon appetito!